E' in programma domani pomeriggio alle 17.30 al Teatro Comunale Santa Alessandro di Santa Margherita un incontro o dibattito organizzato dai comitati spontanei di agricoltori che si battono per migliorare la condizione economica in cui verse il loro settore, per ritornare a fare il punto della situazione, una necessità che scaturisce da quella che Gaspare Lamarca, portavoce del Movimento Agricoltori e Imprenditori del Belice, considera la totale indifferenza e insensibilità del Parlamento regionale e del Governo nazionale in ordine alle gravi problematiche che persistono sul settore agricolo. E' così il Movimento Spontaneo Agricoltori e Imprenditori Agricoli del Belice, in collaborazione con il Movimento Terra e Vita e con il Movimento Circolo Rinascente di Menfi, hanno deciso di rivedersi allo scopo di programmare e pianificare una grande manifestazione di protesta da svolgersi presso il Bivio Gulfa, situato lungo la scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Il nostro settore, dice Gaspare Lamarca, in una grave condizione, strozzato e condannato a morire da una politica agricola, quella esercitata dall'Unione Europea, fondata su uno scellerato liberismo economico in cui i prezzi dei prodotti agricoli vengono imposti da un mercato in quasi regime di oligopolio. Viene denunciata poi la situazione relativa ai costi di produzione raddoppiati e triplicati, a partire dal caro gasolio, ma anche dai prezzi alle stelle su fertilizzanti e agrofarmaci e macchine agricole. E ancora i comitati spontanei evidenziano la precaria e inefficiente politica delle acque irrigue dei consorsi di bonifica, la mancanza totale di infrastrutture a sostegno della viabilità civile e rurale, l'inefficiente politica della Regione a supporto dei siti produttivi di trasformazione dei prodotti agricoli dalle cantine sociali alle cooperative ortofrutticole. Inoltre, osserva Lamarca, ciò che è sconcertante e scandolosa è l'insensibilità a fronte della calamità e i danni causati dal nubifraggio del 30 settembre scorso, che ha messo in ginocchio centinaia di aziende a Santa Margherita produttrici di fico d'India e di olive per olio extravergine d'oliva. Duro l'attacco ai referenti politici dai deputati regionali e parlamentari nazionali eletti in questa circoscrizione elettorale, tutti accusati dalla marca di insensibilità e perfino di strafottenza. Agli occhi del movimento spontaneo agricoltori e imprenditori agricoli si salvano solo pochi sindaci che si sono contraddistinti, dice Lamarca, in questa grave situazione, sollecitando i livelli superiori di governo a trovare soluzioni, ma anche queste richieste sono rimaste senza risposta, manifestata anche dall'assenza di visito sopra luoghi anche di circostanze e solidarietà nei confronti dei titolari delle numerose aziende colpite dal maltempo. Ci auguriamo, conclude Lamarca, che chi in passato non ha mai mostrato posizione chiara e coraggiosa nella difesa dei diritti degli operatori del settore agricolo, assente nelle manifestazioni di protesta autorizzate pacifiche del 2019 e del mese di maggio scorso a Menfi, siano presenti ora, all'incontro di domani. L'esortazione, infine, è ovviamente anche ad agricoltori e imprenditori agricoli ad essere tutti presenti ed attivi al Teatro Sant'Alessandro dalle 17.30 nel manifestare e rivendicare i diritti di lavoratori della terra e di imprenditori per la salvaguardia e tutela della dignità personale e a tutela delle aziende agricole su cui è fondata l'economia e la ricchezza del territorio e il sostentamento delle nostre famiglie. Grazie.